Ciao a tutti, come allenare al meglio la motivazione? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Termasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, quali sono i sistemi per allenare al meglio la motivazione? La motivazione è un motivo all'azione. Beh, intanto devi collegare all'azione un'emozione, perché se non c'è emozione non c'è anche motivazione. La motivazione è un motivo, l'emozione è un grosso motivo all'azione. Pensate a quando siete innamorati, fate delle cose, avete un'energia, le persone fanno delle cose per amore che in altre situazioni non farebbero mai, perché hanno una forte motivazione appunto ad agire da questo punto di vista. Quindi l'amore è un motivo all'azione molto forte. Quindi se si riesce a collegare, diciamo, un'azione a un'emozione è molto importante, dà una forte motivazione. Poi c'è da dire che è molto importante per allenarsi avere un pensiero positivo, perché se noi auspichiamo, come dire, e pensiamo di riuscire, siamo molto più motivati. Quando uno sa già che ha poche possibilità, o pensa ad avere poche possibilità di riuscire, agirà senza tanta motivazione. Quindi un grande problema, una grande situazione va divisa in piccole parti, perché più frammenti, più possibilità di poter ottenere dei risultati da questo punto di vista. Quindi, diciamo, lo positivismo è importante. Prendere un impegno è anche importante. Fare uno sforzo continuo. Noi dobbiamo avere obiettivi alti, aspettative basse, e avere uno sforzo costante nella situazione. Possiamo anche, diciamo, darci una motivazione cercando di superare la concorrenza, qualunque essa sia la concorrenza. Quindi un po' di competizione sana, diciamo, da questo punto di vista è importante. Visualizzare gli obiettivi è fondamentale anche, perché la visualizzazione ti aiuta poi a rispettare l'impegno, a fare delle cose, ad andare in quella direzione. Quindi visualizzi, impari a visualizzare gli obiettivi che vuoi raggiungere, a interiorizzarli, a visualizzarli. E poi ogni volta che fai qualcosa che va nella direzione giusta, datti un premio. I premi devono essere delle cose che ti danno gratificazione. Insomma, un sistema di premi è fondamentale per acquisire motivazione. E piano piano far sì che le cose si sviluppino automaticamente, senza sforzo. Come quando fai le cose per piacere, diciamo. E questa è l'essenza dell'imparare a motivarsi. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi. Iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!